È solo la seconda di campionato ma già c'è una partitissima. Roma-Juventus è anche una rivincita del primo turno di campionato che ha visto le due grandi subito in difficoltà. La Roma ha pareggiato contro il Verona mentre la Juventus è stata sconfitta dall'Udinese costituendo un primato storico perché i bianconeri mai erano stati battuti in casa nella gara di esordio. Dunque Roma-Juventus offre ad entrambe la possibilità di ripartire subito con slancio e di proiettarsi verso un campionato che entrambe vorrebbero interpretare da protagoniste. Vediamo come Juve e Roma si approcciano dunque a questa partita così importante anche se arriva soltanto dopo 90 minuti di gioco. Ecco qua, la Juve ha la possibilità di riprendere in attacco la sua coppia base, quella composta da Mandzukic e Morata. Il rientro dello spagnolo è molto confortante per Allegri perché dà fantasia e forza penetrativa alla squadra. Poi c'è da risolvere il problema del regista, come sapete è assente per infortunio Marchisio, è stato sostituito nella prima partita da Padoin ma con esiti davvero modesti. E allora a che cosa ha pensato Allegri? A riportare Pogba che già ha fatto quel ruolo nei compiti di regia e sarà Pogba dunque al centro del campo, nel mezzo proprio del centrocampo juventino, con Sturaro recuperato e Pereira sui lati. Questa dovrebbe essere l'impostazione con un classico 3-5-2, con i tre difensori Bazzagli, Bonucci e Chiellini e poi la linea dei centrocampisti con qualche dubbio sugli esterni. L'Iksteiner e De Vra è la soluzione più facile e più scontata. C'è forte anche la suggestione magari di inserire a partita in corso quadrado appena arrivato sotto le insegne bianconere. Questa è un po' la strategia disegnata da Allegri per la partita con la Roma, una gara particolarmente delicata anche perché la Roma dal punto di vista del mercato forse è stata una delle squadre che più ha fatto e meglio ha fatto andando a rinforzarsi proprio nei punti focali. Che cosa cambia rispetto alla Roma della prima giornata? Qualche cosa anche di importante. Intanto c'è l'arrivo come esterno difensivo di sinistra di Digne, terzino molto atteso e quindi lo vedremo. Il ritorno presumibile di Maicon sulla destra che consentirà a Florenzi di recuperare uno spazio nel ruolo di attacco di esterno destro a comporre un tridente con Zecco e Salah. Dunque finalmente Zecco, grande centroavanti, lo ha dimostrato anche nella prima partita con le sue attitudini a servire i compagni oltre che a puntare direttamente a rete, dovrebbe essere alimentato, dicevo, il gioco di Dzeko proprio dai cross di Florenzi, dalle penetrazioni di Salah. Insomma, la Roma cerca la chiave per innescare questa nuova arma più o meno proibita che si è regalato. A centrocampo De Rossi, poi Pianice Nainggolan, a conferma dunque di una struttura che non dovrebbe cambiare. Resta fuori in partenza Iago Falke che è valido ricambio esterno naturalmente sempre per il gioco d'attacco. Pronostico? È sicuramente molto difficile farlo, è incertissimo, anche se forse da un punto di vista emozionale e temperamentale la Roma ha qualcosina in più da spendere al momento, anche nell'euforia del momento proprio legata a tutti questi acquisti. Più confusa, difficile sembra la situazione della Juve, che però va sempre temuta, difficile che i biancore ristecchino due partite consecutive. Potrebbe anche uscire una gara, un pareggio, con parecchi gol e con grande soddisfazione per chi guarda lo spettacolo.